Oh, dopo domani siamo a Roma, eh? Ci l'avrebbe detto. Ma quando arrivi cosa fai? Ti vai a presentare? Ti dirò. Io sapevo che il re stava a Roma. Allora dico, andiamo a Roma. Poi vengo a sapere che andava a Pescara. Allora dico, andiamo a Pescara. Mo quello se n'è andato a Brindis, allora permetterai. Io me ne vado a casa mia, a Littoria, da mio padre e mia sorella, no? Grazie.